I rapporti economici, politici, culturali fra Cina e Italia sono sempre stati molto importanti e hanno avuto anche una storia molto interessante. È chiaro che le restrizioni Covid hanno influito negli ultimi tre anni sugli scambi, anche sulle possibilità di incontrarsi reciprocamente. Se le persone non si incontrano è anche difficile a volte capirsi, è anche difficile portare avanti i discorsi a lungo termine. Quindi senza altro la riapertura della Cina da questo punto di vista è una cosa positiva. Vediamo che adesso i voli ritornano, c'è più facilità a recarsi in Cina e anche dalla Cina verso l'Italia. Chiaramente sui divisti si può ancora fare molto, però diciamo che sta ritornando alla normalità. Le questioni che riguardano adesso i rapporti fra Cina e Italia sono soprattutto questioni di carattere un po' più politico. Non si può negare che ci sia stato un raffreddamento degli investimenti reciproci, soprattutto della Cina verso l'Italia, ma anche verso l'Europa in generale, per motivi di scrutinio maggiore che viene posto dalle autorità anche in Europa e in Italia sugli investimenti cinesi, magari in settori dove prima invece non c'era assolutamente nessun tipo di preoccupazione di sicurezza nazionale o meno. Secondo me questo è un trend che potrebbe continuare, ma che non deve ostacolare le relazioni commerciali ed investimenti nei settori che realmente non sono strategici. Questo si può fare attraverso anche una maggiore reciprocità sia da parte della Cina che dell'Italia anche, perché la reciprocità deve essere entrambi i lati e quindi una maggiore facilità per gli investitori in settori, ripeto, non considerati veramente strategici o importanti per la difesa del Paese, di investire nell'altro Paese, perché comunque i flussi sono importanti e possono essere importanti. A fianco a questo io suggerirei anche alle aziende cinesi che sono in Italia, ma anche alle autorità, alle camere di commercio, a chi le rappresenta, di spiegare anche l'apporto che le aziende cinesi hanno dato all'economia italiana, che non è stato, diciamo, molto ridotto. C'è stato, ci sono stati anche dei casi di aziende italiane che hanno beneficiato molto dall'investimento cinese. Ecco, queste storie non vengono quasi mai raccontate o non vengono raccontate nei modi giusti e soprattutto nei tempi giusti. Secondo me sarebbe importante farlo, altrettanto quanto è stato riconosciuto che anche gli investimenti stranieri in generale in Cina hanno avuto un enorme impatto e anche un impatto positivo sull'economia cinese negli ultimi 30 anni. Quindi, secondo me, ecco, questa è la strada da seguire, maggiore reciprocità, più attenzione a tutti i settori, anche quelli non strategici, e poi raccontare meglio quello che le aziende fanno nei due paesi.